Ladies and gentlemen, brothers going down is a bike show. It's not only a show, it's all about the bicycle. Buongiorno, sono Michela di Ultimata Italia. Mi occupo della formazione ai clienti riguardanti i nostri prodotti. L'integrazione per uno sportivo è fortemente consigliata. Allora, prima dell'attività sportiva noi consigliamo di utilizzare Carica. Carica è uno degli ultimi prodotti nati secondo un'innovativa tecnologia, ossia abbiamo pensato di inserire in un unico integratore ben nove integratori, in maniera tale da facilitare anche la vita al consumatore e dargli comunque tutto ciò che gli necessita per coprire bene la prima ora, ora e mezza di attività sportiva. Come dicevamo, è necessario poi iniziare ad integrare o con alimenti solidi come le barrette oppure con gel o liquidi. Le barrette che noi consigliamo sicuramente al ciclista sono le speed bar da utilizzare durante, sono barrette non ricoperte per cui non si sciolgono e sono particolarmente energetiche in quanto hanno un ingrediente che sono a base di frutta secca e mandorle. Consigliamo anche l'utilizzo di sport bar, in quanto è una barretta comunque molto più tecnica perché è arricchita con aminoacidi, glutamina, creatina e vitamine e contiene 24% di proteine. Altra tipologia di barrette che abbiamo sono le sport carbo che sono barrette ai cereali, quindi comunque molto energetiche e poi anche queste sono barrette dedicate esprettamente al ciclismo, sono pro bike, sono barrette un po' più proteiche ma anche queste non si sciolgono in quanto non sono ricoperte. Durante l'attività sportiva è consigliato prendere sicuramente una dose di aminoacidi. Gli aminoacidi sono contenuti nei nostri gel, contengono anche bicarbonato per tamponare la formazione di acido lattico e il guaranà che è un energetico importante da utilizzare durante l'attività sportiva. Il guaranà che proponiamo anche in fiale monodose, questa fiala è quello che normalmente il ciclista utilizza per lo sprint finale. Un altro prodotto che abbiamo disponibile in forma liquida è Power Cycling. Power Cycling è un prodotto veramente eccezionale, è indicato per quelle persone che soffrono di crampi in quanto contenendo la betalanina che va proprio a contrastare questo aspetto, contiene ferro che migliora proprio un discorso anche energetico e di trasporto di ossigeno a livello del sangue. Power Cycling è proprio il prodotto ottimale da utilizzare per le persone che soffrono di questo disturbo che appunto è la presenza di crampi. Il prodotto che poi conclude un po' il discorso delle gare o comunque di prestazioni importanti è Recuper. Molto spesso si sottovaluta il recupero, mentre è importante sicuramente per affrontare poi quelli che sono gli impegni delle giornate successive normali nella vita di tutti i giorni, ma anche proprio per un discorso di recupero a livello fisico, quindi muscolare, di energia e tutto ciò che l'organismo ha comunque bisogno dopo aver effettuato una prestazione sportiva che perdura per tante tante ore. Ultimate Italia ha tra i vari prodotti anche preparati di proteine in polvere. Questo fa sì che si riesca a completare appunto come dicevo l'alimentazione giornaliera magari semplicemente con uno shaker di proteine alla mattina a colazione in maniera tale appunto da garantirsi tutto l'apporto proteico necessario per lo sportivo. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Vuoi twittare con Bike Show? Il primo canale del grande ciclismo è anche su Twitter. Bike Show TV è anche Social Network. Il primo canale del grande ciclismo è anche su Twitter. Il primo canale del grande ciclismo è anche su Twitter.